Ci siamo allenati subito la domenica, poi abbiamo avuto un giorno libero e ci siamo ripresi subito. Certo il ritmo di tre giorni di un partita non c'era ma forse anche un pochino meglio per noi così riposiamo un po'. Sì adesso siamo ripresi e abbiamo tanta voglia di giocare domenica contro la Lecce perché vogliamo continuare. Siamo usciti con tre vittorie di fila e vogliamo continuare così. Stiamo bene secondo me. No, Lecce gioca bene, anche in casa hanno fatto due o tre risultati contro Juventus contro l'Inter molto positivo e anche quando hanno giocato qua volevano giocare, giocano un bel calcio e forse anche un vantaggio per noi così sarà forse più spazio di giocare non tutti tutti undici davanti alla porta. Sarà una bella partita noi dobbiamo giocare con grande attenzione e dobbiamo essere pronti per un battaglio. Sì sì mi ricordo che Robben ha fatto il primo gol sotto la curva ma i primi 20 minuti abbiamo sofferto forse il primo tempo poi il secondo tempo ha creato molte occasioni però è una buona squadra. Noi vogliamo continuare con le vittorie, guardiamo in alto e proviamo a tenere il quarto posto. Sì dobbiamo guardare per forza partita per partita perché se guardiamo già avanti a Valencia perdiamo sicuro contro la Lecce e contro la Lazio. Per noi il campionato è ancora il primo obiettivo. Certo siamo usciti bene contro Valencia ma anche loro hanno avuto occasione clamorosa, hanno sbagliato e là quando non sei attento puoi perdere anche 3-0, 4-0. Così dobbiamo mettere a posto le nostre teste e essere pronti per la Lecce e poi piano piano guardiamo a Valencia. Grazie. Grazie.